La città di Sulmona si appresta a vivere un evento musicale di notevole valore artistico, il concorso internazionale di canto Maria Caniglia, ormai giunto alla 29esima edizione. Il concorso, cresciuto nel tempo, ben figura nel panorama dello spettacolo lirico italiano ed europeo. Molti giovani artisti che si sono ben affermati nel concorso Caniglia hanno iniziato nel migliore dei modi la loro carriera artistica ed oggi calcano i palcoscenici dei maggiori teatri lirici d'Europa e del mondo. Il concorso è stato presentato durante una conferenza stampa attorno alla sede della Camerata Musicale Sulmonese in Vico dei Sardi. Il concorso si terrà dal 24 al 30 di settembre. Per questo concorso ci sono già una cinquantina di iscrizioni, candidati provenienti da tutto il mondo, ma altre iscrizioni arrivano ogni giorno anche via e-mail. Anche quest'anno si prevede una nutrita pattuglia di artisti provenienti dalla Corea. Questa volta la qualificata giuria è preceduta dal soprano statunitense John Anderson. Ad accompagnare i cantanti, come di consueto durante le prove, sarà il pianista Leonardo Angelino, ormai di casa a Sulmona, mentre domenica 30 settembre, nella serata finale, saranno accompagnati dalla prestigiosa orchestra sinfonica bruzzese diretta dal maestro Dario Lucantoni. Le fasi eliminatorie e semifinali si treranno nell'auditorium dell'Annunziata, mentre la serata finale si trerà nel Cinema Teatro Pacifico, visto che il teatro Maria Caniglia è ancora chiuso per restauro. Tra l'altro che il teatro si apre a dicembre, prima di Natale, prima di Natale non si sa ancora se cominceranno i lavori che devono fare, perché oltre le grandi difficoltà burocratiche, ma le difficoltà che hanno gli ingegneri ad avere autorizzazioni nei tempi utili. Questo concorso è stato per noi, fino a oggi, in bilico, per quanto riguarda le possibilità finanziarie dell'associazione. Fino a oggi, oggi, in questo momento, per mettere sulla giuria, abbiamo dovuto trovare un altro membro, perché tutti questi grandi artisti che noi troviamo, a vedere gli impegni per i loro teatri d'Europa o del mondo, all'ultimo momento ci dicono che non possiamo più venire. Quindi io, dieci minuti fa, ho ritrovato il quinto elemento della giuria. Ora, come si può fare a parlare del concorso Caniglia prima di oggi? Non si può assolutamente parlare del concorso. Anche se qualcuno ne ha parlato, è che la notizia, non dico riservata, perché il Caniglia opera in silenzio, nel silenzio più completo.